Ardas! Ma cosa ti è successo? C'erano donne laggiù, bambini! Ti prego, pensa a ciò che stai facendo! Io ti amo! Buciarda! Tu sei una traditrice e come una traditrice morirai! Non mi lasci altra scelta! Mamma! Soffri, soffri mentre il tuo patetico mancino ti tradisce! Il sangue di mio padre, aspetta solo di essere versato, non provare a fermarmi un'altra volta. Aspetta solo di essere versato, non provare a fermarmi un'altra volta.